Io ho ripreso oggi il pezzo del Matin, il giorno successivo all'inaugurazione dell'Expo di Parigi del 1900 e si era scoperto che i padiglioni, grande inaugurazione, grande successo dell'Expo ma il primo giorno, malgrado quello che avevano scritto alcuni giornati, il giornale in realtà quasi nessun padiglione era pronto. Non portare male? No, lo porto esattamente per dimostrare dopo aver detto che invece qua sono già pronti, quindi qua sono pronti chiaramente per dire che siamo molto avanti rispetto ad altri Expo, forse non finirà tutto però sicuramente finirà il bello di Expo e del sito con questa grande capacità innovativa in cui si unisce la capacità innovativa con la bellezza e soprattutto con la solidarietà.